All'andata ricorderete tutti un 1-1 beffardo alla mezzia terme, Savoia raggiunto addirittura al 96esimo, veramente tutto pronto, sarà il Sambiasi a dare il calcio d'inizio della gara, gara che parte proprio in questo istante, con favore di Savarese, manovra avvolgente del Savoia, ancora Savarese, vertice dell'area di rigore, il traversone Fontanarosa, di testa, pallone a lato, prima emozione, traversone di Lio, Vitiello non esce, e brividi, poi di Capua, azione viva però in avanti per il Savoia, Savarese, il tocco ancora per pallonetto, nuovo traversone Fontanarosa non ci arriva, Guarro, Savoia 1, Sambiasi 0, Guarro attenzione però, perché viene segnalato fuori gioco, fuori gioco di Guarro e dunque gol annullato, perde palla Vicentin, qualche fischio dalla tribuna per l'attaccante argentino, ripartenza il Sambiasi, attenzione, possibilità per Manfrey in aria, il sinistro, fuori, avanza il Savoia che in questo momento è in dieci uomini, Guarro, traversone ancora con il sinistro per Savarese che la rimette al centro di testa, pallonetto esplode il destro, fuori, fuori, gioco di Capua per pallonetto, pallonetto serve nuovamente di Capua, posizione regolare per il numero 8, traversone al centro, verso Vicentin, grandissimo colpo di testa dell'argentino, è miracolo di Desio, dovrebbe cercarlo con un lungo traversone con il sinistro morbido, verso Fontanarosa, la sponda per Vicentin, attenzione, sfera utile per Savarese alle sue spalle, in aria di rigore Savarese, il sinistro al centro, Fontanarosa, Savoia 1, Sambiasi 0, Fontanarosa ha portato in vantaggio i bianchi, sfruttando il traversone di Savarese. Pronti per la radiocronaca in diretta del secondo tempo di Savoia-Sambiasi. In sovrapposizione viene servito, pallonetto potrebbe tentare il traversone, entra in area di rigore, il tocco per Savarese, Savarese con il sinistro a larga per Guarro, Vicentini l'ha terminato in fuorigioco, quindi non viene servito l'attaccante argentino, Guarro, traversone, adesso per Vicentini che si coordina, colpo di testa debole e centrale. Lio, affrontato da Di Capua, sempre in possesso palla, Lio manovra bene in favore di Gordiano, Guerreri, limite dell'aria, ancora Gorriano, attenzione, in area di rigore del Savoia, pericolo, poi Gordiano esce dalla stessa area, ma riesce a servire Savasta, attenzione, affrontato da pallonetto, cade a terra, tutto regolare, Lio sinistro, fuori, limite dell'aria per Savarese, Savarese per pallonetto, pronto il traversone di quest'ultimo, verso Vicentini che non ci arriva, alle sue spalle però Guarro, attacco vivo per il Savoia, Guarro, traversone, Vicentini, non riesce. Il rinvio di Desio, palla che in qualche modo raggiunge addirittura Vitiello, erroraccio del portiere del Savoia, che ha regalato la palla a Manfrey, Manfrey che poi ha spedito fuori, che occasione! Bisogna anche ricordare che è stato annullato un gol regolare a Guarro, nel corso del primo tempo si era sullo 0-0, viscito, traversone, salvatore! Colpo di testa!